Il video di installazione è composto da due parti. Parte 1. Come installare la protezione per lo schermo sul tuo telefono. Parte 2. Come rimuovere eventuali bolle rimaste. Parte 1. Come installare la protezione per lo schermo sul tuo telefono. Passo 1. Utilizzare Wipes Wet numero 1 per pulire lo schermo. Passo 2. Utilizzare Wipes Dry numero 2 per asciugare lo schermo. Passo 3. Usa Dust Absorber per assorbire le polveri sullo schermo. Passo 4. Rimuovere la pellicola Linguetta 1. Passo 5. Posizionare la protezione sullo schermo. Allinearla correttamente. Se non è possibile allineare correttamente la protezione, sollevarla e riposizionarla correttamente. Passo 6. Utilizzare la spatolina per schiacciare la protezione per lo schermo. Passo 7. Staccare l'adesivo, posizionare la spugnetta nera sulla scrivania e spostare il telefono su di essa. Passo 8. Sollevare la linguetta 2. Spingere la spatolina dalla linea tratteggiata fino alla parte superiore del telefono. Passo 9. Sollevare la linguetta 3. Spingere la spatolina dalla linea tratteggiata fino alla parte inferiore del telefono. Passo 10. Usa la spatolina per spremere le bolle sulla protezione dello schermo. Passo 11. Rimuovere la pellicola Linguetta 4. Passo 12. Usa il pollice per premere delicatamente la protezione per lo schermo fino al bordo del telefono, assicurandoti che la protezione aderisca bene. Passo 13. Utilizzare il panno in microfibra per pulire le polveri sulla superficie del proteggischermo. L'installazione è fatta. Parte 2. Come rimuovere eventuali bolle rimaste. Eventuali bolle rimaste. Usa il pollice per far uscire le bolle sui bordi dello schermo e del telefono. Usa il pollice per far uscire le bolle sui borne. Usa la coste di choix. Usa la coste di limo. Usa la coste di limo. Usa la coste di limo. Usa il pollice per far uscire le bolle sui festa. Grazie a tutti.